Musica Si impenna di nuovo in Calabria la curva dei contagi che sfiorano a quota 4.000, sono per l'esattezza 3.994, lunedì erano 2.134, i casi riscontrati nelle ultime 24 ore, con 13.742 tamponi e il tasso di positività che dal 24,54 schizza al 29,4%. Alto anche il dato dei decessi, 9 per un totale di 2.234 vittime dall'esordio della pandemia, in aumento pure i ricoveri sia nelle parti ordinari più 5, sia nelle terapie intensive più 1. Ho manifestato in più occasioni forti preoccupazioni in ordine alle criticità che riguardano il fabbisogno di personale sanitario nella nostra regione, sollecitando ogni intervento necessario a fronteggiare la gestione della fase emergenziale pandemica e post-emergenziale. Ci sono ancora gravi ritardi nelle procedure di reintegro degli organici da parte delle aziende sanitarie provinciali e da parte delle aziende ospedaliere e con un specifico riferimento al personale impiegato nell'emergenza Covid si registra l'ulteriore criticità del mancato completo utilizzo delle risorse messe a disposizione della Regione Calabria dai decreti varati nel 2020 per fronteggiare la pandemia. La medesima cosa è capitata, ce lo segnalano anche documenti ministeriali, per ulteriori assegnazioni a valere sull'anno 2021 per le stesse finalità. Alla luce di tutto questo, relativamente ai contratti già stipulati per fronteggiare l'emergenza che scadrà il prossimo 31 marzo, tenuto conto della ricrudescenza della pandemia nella Regione e della forte pressione sulle strutture deputate all'assistenza dei pazienti Covid, ho scritto, insieme al subcommissario esposito e al DG del Dipartimento Salute Fantozzi, a tutti i commissari delle ASP e delle aziende ospedaliere, per invitarli a prorogare fino al 30 giugno 2022 i contratti del personale necessario a fronteggiare il trascinamento del virus sul territorio regionale. Mi aspetto una risposta immediata e che entro pochi giorni i contratti degli operatori sanitari coinvolti vengano prorogati, lo afferma in una nota Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria. La Calabria sta fronteggiando al meglio l'emergenza ucraina, mettendo in campo l'enorme macchina istituzionale della solidarietà, risorse, energie e professionalità a disposizione di chi verso in condizioni di estrema difficoltà. Sta lavorando a ritmo serrato l'unità di crisi regionali istituita con ordinanze del commissario delegato all'emergenza, individuato nel presidente della Regione Roberto Chiuto, lo scorso 14 marzo, per gestire i flussi in entrata nel nostro Paese a causa del conflitto russo-ucraino. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale. Gestire l'accoglienza e l'assistenza sanitaria dei cittadini ucraini, è detto nel comunicato, resta tuttavia un impegno gravoso che sta assumendo connotate sempre più complessi col passare delle ore. Stando alle informazioni assunte attraverso le questure, nel territorio regionale sono stati registrati 1.903 profughi provenienti dall'Ucraina. Al fine di garantire l'eventuale ospitalità dei profughi ucraini, qualora non fossero sufficienti i posti messi a disposizione dai centri di accoglienza e integrazione, i tecnici della protezione civile ed intesa con l'unità di crisi hanno già effettuato sopralluoghi per verificare l'adeguatezza di tre immobili dislocati in diverse province. Oltre a questo, si è già provveduta a stipulare una convenzione con Federalberghi Calabria per l'individuazione di strutture dedicate che eventualmente saranno attivate secondo le necessità di ospitalità. Chiesta anche la messa a disposizione da parte del Ministero della Difesa di alcune strutture localizzate nella provincia di Cosenza e già impiegate nei mesi scorsi nella gestione dei profughi provenienti dall'Afghanistan. Nel frattempo il Dipartimento regionale di istruzione ha già attivato risorse per il reperimento di mediatori culturali e psicologi da mettere a disposizione degli istituti scolastici per l'integrazione dei rifugiati. Se riunita la Commissione regionale bilancio, ascoltiamo il Presidente Antonio Montuoro. Abbiamo approvato la rimodulazione di alcune misure del POR 2013-2020 e del PAC 2014-2020 per mettere in campo delle risorse importanti, alcune delle quali riguardano il pagamento del personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid, altre riguardano lo stanziamento che è stato approvato anche dall'Aggiunta regionale di 1.200.000 euro per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi in Ucraina. Quindi dimostrazione di quella che è l'intenzione della Calabria, di far fronte nell'immediato a quelle che sono le emergenze, ma soprattutto per stare vicino al dramma che sta vivendo il popolo ucraino, una fase così delicata come il conflitto che si sta svolgendo in Ucraina tra la Russia e il popolo ucranico. Abbiamo avviato una discussione molto importante, un momento di confronto molto importante alla presenza del Dottor Nicolai, che è il Direttore Generale del Dipartimento di Programmazione, su quello che è la presentazione del nuovo POR 21-27 e su quello che è lo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una Calabria che funziona meglio passa da una importante ma soprattutto un'attenta programmazione di quelli che sono i fondi europei. Ci aspetta sicuramente una sfida importante anche perché questo potrebbe essere veramente l'ultimo treno per la Calabria. Oltre a quello che sarà la capacità di spesa dobbiamo badare ovviamente a mettere in campo una progettualità di livello, una progettualità che risponda a quelle che sono le reali esigenze del territorio per dare lo slancio definitivo alla Calabria e farla tornare veramente competitiva con tutte le altre regioni d'Italia. Si è avviata un'importante interlocuzione anche con degli spunti di riflessione molto importanti fatti dai consiglieri su quella che sarà la nuova programmazione regionale. Si punta molto a quella che è appunto la qualità dei progetti ma soprattutto si punta molto a mantenere un'azione sinergica con tutti i soggetti interessati, con le amministrazioni comunali, con i sindaci del territorio, con le associazioni e con tutti i soggetti che insomma sono interessati da quella che saranno poi i fondi da mettere in campo per risolvere le problematiche della Calabria. Si lanci subito in via sperimentale a Gioia Tauro un polo di attrazione imprenditoriale che sappia valorizzare il trinomio per noi vincente ZES, Mediterraneo e Gioia Tauro. Solo così potremo essere conseguenziali alle parole di elogio espresse dalla ministro Giovannini rispetto al Lab Portuale Gioiese di cui è stata esaltata l'unicità grazie alle possibilità di sviluppo del suo retroporto e della zona economica speciale e da tutto il bacino del Mediterraneo. Lo afferma in una nota il segretario generale della Will Calabrese, Santo Biondo, dalle parole bisogna passare subito ai fatti, prosegue Biondo e fare di Gioia Tauro una delle più importanti aree industriali del sud e così facendo tornare a dare una missione produttiva al mezzogiorno. Noi lo diciamo da tempo che il trinomio ZES, Mediterraneo e Gioia Tauro potrebbe essere la carta vincente per il rilancio economico e sociale non solo della Calabria ma di tutta l'area meridionale dell'Italia e sino ad oggi ci ha sempre sorpreso che questa idea non sia stata focalizzata e pienamente sviluppata dando alla stessa una valenza strategica per l'intera economia italiana dal governo e della politica nazionale. Nella mattinata di lunedì il Tribunale di Catanzaro prima sezione civile ha accolto il ricorso presentato da Antonello Tallerico, candidato di Forza Italia e primo dei non eletti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria delle 3-4 ottobre scorsi per l'inelegibilità consigliere regionale di Valeria Fedele, anche lei candidata nella lista di Forza Italia, nella circoscrizione Calabria Centro. Secondo il ricorrente, l'inelegibilità della proclamata consigliere regionale Valeria Fedele era fondata sul fatto che Fedele dal 1 febbraio 2019 ricoprisse l'incarico di direttore generale della provincia di Catanzaro senza avere cessato le proprie funzioni. Ascoltiamo Tallerico ai nostri microfoni. Diciamo che è un primo grado quindi sia nell'ipotesi in cui non fosse stato accolto sia in queste ipotesi dobbiamo valutarlo per quello che in questo momento è. È un provvedimento che non è immediatamente esecutivo, lo sarà eventualmente se dovesse essere confermato in sede di appello e quindi per il momento prendiamo atto che quello che avevamo scritto e che avevamo sostenuto non era così peregrino come qualcuno lo lasciava intendere. Se dovesse essere confermato quel pronunciamento è ovvio che un consigliere regionale può incidere nella misura in cui riesca a costituire una nuova classe dirigente e riesca a difendere questa città che nonostante i tanti rappresentanti politici mi pare che oramai sia isolata nel suo stesso contesto e sia schiacciata tra quelle che sono naturalmente i territori di Cosenza, Reggio e Vibbo. Quello verso la fedele è solo il primo dei due ricorsi, c'è ancora quello di Comito? Sì c'è quello di Comito che credo che verrà depositato nella prossima settimana, non fosse altro perché per logica processuale essendo pendente ancora il termine per l'istruttoria, per il deposito di memoria nel giudizio parente Comito che scadrà il 25 marzo, non credo che il Tribunale depositerà mai un provvedimento che inciderebbe anche nell'altro giudizio e sarebbe una sorta di anticipazione del giudizio anche rispetto a quello che a tutt'oggi pende per il deposito delle note difensive ulteriori, quindi ritengo che nella prossima settimana si definiranno gli altri due che sono rimasti. Rafforzare le filiere dell'agroalimentare d'eccellenza in Calabria, decomparti come ortofrutta, olivacoltura ma anche del settore florovivaistico, inserendole nella rete nazionale delle filiere di settore per affrontare unitariamente la programmazione delle risorse ingenti del PNRR che porterebbe al potenziamento del sistema produttivo calabrese, è stato il focus dell'assemblea che si è svolta nei giorni scorsi nella sede di Lega Cop Calabria a Catanzaro. Stiamo cercando di concretizzare il buono che c'è nel nostro territorio attraverso un rapporto forte con le nostre filiere nazionali in modo da poter coinvolgere e coincidere le risorse sia del PNRR sia della programmazione regionale per rafforzare il sistema produttivo cooperativistico calabrese. Oggi noi stiamo discutendo sui contratti di filiera, quindi su quello che riguarda tutto il sistema economico dell'agroalimentare ma in particolare del settore olivico. La Calabria rappresenta dal punto di vista della produzione uno dei punti forti del sistema nazionale, se mai la Calabria sconta un ritardo e questo è il gap che dobbiamo cercare di colmare sul processo di commercializzazione, quindi su quello che poi è il valore aggiunto che alle produzioni devono essere date. L'incontro è stato voluto fortemente da Lega Cop Nazionale e infatti erano presenti il vicepresidente e il direttore di Lega Cop Angelo Peturzella e Sara Guidelli. Dobbiamo imparare a valorizzare molto di più i nostri prodotti perché i nostri prodotti che vengono da questa terra sono di grandissima qualità e questa qualità va saputa comunicare e quindi sicuramente una delle sfide più importanti sarà quella di valorizzare le DOP, tutte le produzioni dei territori, creare sintesi, creare collaborazione squadra fra tutti gli agricoltori e provare a mettere in piedi quegli investimenti necessari che supportano e migliorano la qualità ma in particolare anche quello di comunicare tutti insieme il valore del nostro prodotto sia in Italia ma anche all'estero. La regione Calabria ha delle grandi eccellenze che possono rafforzare queste filiere nazionali quindi sicuramente la Calabria se ben supportata anche da una strategia regionale potrà dare un contributo importantissimo a un processo di ammodernamento e rinnovamento della nostra agricoltura. A Cosenza il terrazzo Pellegrini dove a sede l'omonima casa editrice non riesce a contenere il numeroso pubblico proveniente da tutta la Calabria. Il momento è solenne e importante perché racconta una storia di 70 primavere fortemente proiettata al futuro e alle nuove sfide che l'attenderanno. Per poter decidere cosa fare nel futuro dobbiamo sempre ritornare alle nostre radici perché sono quelle le radici che ci danno la possibilità di seguire una strada. La strada che abbiamo percorso che mio padre iniziò nel 52 che è definito quasi un visionario oggi perché nel 72 partire da per creare e pubblicare una rivista non era cosa semplice. Però lui tenacemente ci riuscì e da questa nasce tutto. Nel corso della serata oltre saluti istituzionali sono state tante le testimonianze autorevoli di ospiti che hanno dialogato con i giornalisti Arcangelo Badolati e Attilio Sabato. Un viaggio tra storia, memoria e futuro della casa editrice Pellegrini. Il futuro prevede una linea costante per noi, quella di avere dei rapporti personali con gli autori. Gli autori sono i nostri amici. Questa non è un'azienda ma è una casa. È la casa di tutti coloro che vogliono trasferire su carti i propri pensieri. Io sono qui nella mia casa editrice. Io ho iniziato col professore Nicaso a scrivere il primo libro Fratelli di Sangue con Pellegrini. È un libro fortunatissimo. Questa casa editrice mi ha portato bene. Ho qui un pezzo del mio cuore perché oltre ad aver conosciuto una casa editrice importante e efficiente ho anche conosciuto delle persone per bene, delle persone distinte che hanno amato e amano il loro lavoro. Gollaparte è stato uno dei protagonisti assoluti nel derby di sabato vinto con il Cosenza. Michael Folorus è sempre più il trascinatore della regina di Roberto Stellone. Peraltro sabato è stato impiegato praticamente da attaccante ed è riuscito a cavarsela egregiamente. No, no. Come ho già detto spesso, non è importante la posizione che ricopro all'interno della squadra ma l'importante è sempre provare a dare il proprio contributo per cercare l'obiettivo di squadra. Con Rivas ci gioco molto bene insieme perché anche l'anno scorso abbiamo giocato spesso insieme come coppia d'attacco quindi ormai ci conosciamo abbastanza a memoria e dei movimenti ci vengono naturali. Anche se devo ricoprire questa posizione o qualsiasi altra posizione io proverò sempre a dare al massimo e dare sempre il mio contributo. No, no. Fisicamente sto molto bene. È cambiato semplicemente che magari agli occhi di tutti, avendo una posizione diversa, come ho ricoperto più spesso in queste partite, mi si vede magari meno a livello offensivo rispetto all'anno scorso che magari ero più vivace sotto porta e avevo molte più occasioni ma è semplicemente un fattore di campo, è un fattore che se il mister mi chiede di fare determinate cose io lo accetto e ho provato a dare più una mano a livello difensivo. Quest'oggi mi si era chiesto un altro tipo di partita e mi sono più avvicinato alla porta avversaria, ho cercato di creare più pericoli però fisicamente sto bene e ho tanta voglia di continuare a dare un contributo alla squadra. Indipendentemente dal ruolo che copro, anche l'anno scorso più volte sono finito a fare l'esterno d'attacco, l'esterno di centrocampo, quest'anno ho fatto il quarto, ho fatto il trequartista, ho fatto il play, mezzala. Indipendentemente dal ruolo che ho, io proverò sempre a fare bene, se il mister mi chiede una cosa è perché è per il bene della squadra, quindi io mi devo soltanto adattare e provare a dare il massimo. Indipendentemente dal ruolo di umano Indipendentemente dal ruolo di umano indipendentemente dal ruolo di umano